In veste i due cittadini e scappa si cerca la guidatrice pirata di Buccinasco sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti gli elementi per individuare una donna che ha investito due ragazzi di 20 anni per poi darsi alla fuga. Per fortuna i due giovani stanno bene e non hanno riportato gravi ferite, solo contusioni e tanto spavento. Gli amici stavano attraversando sulle strisce pedonali in piazza San Biagio in direzione di via Emilia quando un'auto li ha investiti la guidatrice si è fermata per pochi istanti, poi è risalita in macchina ed è ripartita lasciandoli i due giovani. I testimoni dicono che la donna al volante aveva capelli lunghi neri e guidava una macchina color grigio scuro. Le indagini sono a cura della polizia locale che dovrà ricostruire ogni dettaglio grazie alle testimonianze dei giovani, dei passanti e delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza del comune di Buccinasco.